Salve, sono Paolo Kerkiusai, il direttore della sede di staccata a Puglia del Centro Sperimentale di Cinematografia e del Corso di Conservazione e Management del Patrimonio Obdovisivo, fondata a Lecce nel 2019. Sono qui per presentarvi una serie di otto film selezionati dagli studenti del Corso di Restauro di Lecce. Sono otto film che hanno come tema il remake, film che si rifanno a precedenti versioni di trattamento su un certo tema o, in certi casi, il punto di partenza per temi poi sviluppati in rifacimenti. Vedrete classici come È nata una stella, Il mago di Oz, Peter Pan, Frankenstein, His Girl Friday, altri bellissimi film meno noti come A Wife Under Suspicion, dei cult movies come The Little Shop of Horrors e dei sempreverdi come Il viaggio di Gulliver. Vedrete questi film nel contesto di una serie a cadenza settimanale organizzata con la collaborazione del Polo Museo Castromediano e del Dams Università del Salento, grazie alla preziosa collaborazione del professor Luca Bandirali. Ogni film sarà preceduto da una breve presentazione di tre minuti da parte dello studente che ha selezionato il film. Il link con il quale potrete accedere al film sarà accompagnato anche da un brevissimo testo e ci sarà per i film dove esiste anche una versione italiana potrete vedere il film in edizione doppiata in italiano, mentre generalmente il film che vedrete è in versione originale. Si tratta in sostanza di un esercizio di programmazione culturale e di scelta ragionata di film di archivio di museo. Abbiamo chiesto agli studenti quindi di esprimere la loro visione personale di che cosa significa organizzare una retrospettiva tematica. Gli studenti hanno accolto con entusiasmo la nostra proposta cercando tra i titoli disponibili su internet quelli che potevano attirare l'attenzione anche del pubblico non specializzato. Naturalmente, e questa era un'importante regola del gioco, doveva anche trattarsi di film di pubblico dominio, cioè di film non sottoposti a diritto d'autore, il che ha reso naturalmente la ricerca più impegnativa, ma spero che sarete d'accordo con me nel constatare che gli studenti della scuola di restauro cinematografico di Lecce sono riusciti a mettere insieme un'ottima selezione. Nell'augurarvi buona visione, vi aggiungo anche che ogni film presentato nella retrospettiva, ripeto, a cadenza settimanale, una volta alla settimana, sarà preceduto anche da una breve introduzione di tre minuti da parte dello studente che ha selezionato il film. Vi consiglio veramente di ascoltare con attenzione quello che hanno da dire perché noi siamo rimasti molto impressionati dall'entusiasmo, ma anche dalla serietà e dalla professionalità con la quale gli studenti hanno proceduto alla ricerca dei film d'archivio che state per vedere in questa occasione. Detto questo, vi auguro buona visione e, se volete, seguite le attività del centro di restauro che fa parte della scuola di conservazione e management del patrimonio biovisivo di Lecce attraverso il sito del centro sperimentale di cinematografia. Grazie, buona visione.